signore e signori miei belli ben ritrovati nella serie della redcraft ho letto un po i vostri commenti mi avete scritto tipo che non vi convince al cento per cento questo tipo di detto lo so lo so ne sono consapevole anche a me non convince al cento per cento però era una prova devo essere sincero nel mondo di prova ovvero quello dove facciamo tutte costruzioni in creativa prima di iniziare a fare i progetti poi nella red ovvero qui ho iniziato a vedere vari tipi di tetti ed è successo il finimondo perché mentre costruivo mi sono reso conto che non lo so forse le case necessitavano di qualche modifica ad esempio è da un po di tempo che sono fissato io e sto fatto che bisogna non lo so fare una modifica di transizione tra questo registro ovvero il piano terra è il primo piano se vedete va un pochino a sbucare no ed è giusto così perché queste costruzioni sono fatte in questo modo però è proprio questa parte che sorregge quella di sopra che necessitava di modifiche non lo so perché questa cosa mi è venuta in mente mentre cercavo di fare dei tetti diversi niente sono successe delle cose poi tra l'altro nel corso del tempo tra un episodio e l'altro è successo che sono morto in pratica sono andato ad aiutare jc ad uccidere il drago gli serviva un aiuto e non è servito effettivamente perché sono morto giustamente voi sapete che nella redcraft c'è la tomba ovvero un comando che ha creato insomma bisunto che ti permette di riprendere le cose che hai perso facendo shift sopra la tomba ecco che cosa è successo è successo che la tomba dato che ero morto in cielo è rimasta in cielo volevo prenderla al volo facendo shift ed è scomparsa non mi ha dato nemmeno nulla quindi tutto ciò che avevo addosso è svanito quindi non sapevo più cosa fare in questi giorni che cosa ho fatto ho rifatto tutto da capo ovviamente non ci è voluto molto però insomma mi ritrovo con delle litra che hanno solo vending infatti si consumano in un attimo però insomma quando troverò un breaking metterò sicuramente questo sulle litra poi altri oggetti sono completamente uguali a come li avevo prima e poi che cosa è successo dovuto rifare giustamente tutti gli attrezzi compreso l'arco veramente un casino per fare soprattutto questo perché per averlo così al massimo non è tanto facile e poi niente stavo facendo il piccone perché ho di solito uso il piccone con siltac ho trovato questo qui che avevo insomma nell'ender chest e dato che non lo uso mai aspetta dormiamo prima ne approfitto per metterci il siltac perché non so se lo sapevate ma potete far diventare un piccone siltac anche se è fortuna dovete semplicemente prendere un nuovo piccone metterci il siltac che c'è in un libro tra l'altro questo tiene anche il mending ed è comodo per noi che cosa succede voi prendete questo piccone lo mettete qui mettete anche quest'altro e dovrebbe uscire vedete siltac mending efficiency five e un break in tre va a svanire praticamente la fortuna che c'è qui se facessi il contrario succederebbe questo mi uscirebbe fortuna quindi che cosa faccio io faccio in questo modo e ho siltac e abbiamo di nuovo signori tutta la roba come era prima comunque sono venuto qui non so se conoscete questo posto è in pratica una zona che sta creando su riv è un minigioco ve lo spiego un attimo velocemente molto semplice in pratica ci sono due squadre una che sta di qui e una che sta dall'altra parte queste squadre che cosa devono fare si devono avvicinare devono prendere questi pezzetti di cobblestone ok devono raccoglierli e devono portarli alla loro base per esempio in questo caso ho preso quattro pezzi di cobblestone vengo qui li lancio per terra perché ci sono degli hopper giusto ho sbagliato qualcosina forse insomma raccoglie questi cosetti che cosa dovrebbe succedere dovrebbe succedere che si è baccato il gioco insomma dovrebbe salire la torretta verso l'alto una volta che arriva fin dove c'è quella roba di redstone si dovrebbe accendere la luce e la squadra ha vinto semplicemente questo robetto qui si carica sempre c'è ogni volta che faccio così si creano nuovi blocchi perché sotto c'è una sorta di generatore di cobblestone comunque perché sono qui perché sono preso l'impegno di fare praticamente la parte estetica di questo minigioco perché prima era tutta una parte piatta e faceva un po schifo sinceramente però perché vi ho portato qui perché vi ho parlato prima dell'esigenza di cambiare sai tetti le cose perché sono arrivato ad un nuovo design come potete ben vedere non so se vi può piacere sinceramente queste costruzioni sapete come sono fatte sono fatte con le travi che in teoria dovrebbero uscire fuori si dovrebbero vedere però l'unico modo in queste costruzioni molto piccole per dare questo effetto potrebbe essere questo usando delle scale che non lo so potrebbero simulare sempre del legno non lo so in ogni caso guardate che cosa sto comuniando sto facendo le solite casette che faccio sempre praticamente qui ci ho messo anche una torre tra l'altro questo albero mi piace molto l'aveva fatto all'inizio su rive però poi l'ho cambiato un pochino ci ho cambiato proprio il legno perché altrimenti qua veramente il legno era completamente uguale sempre e niente sto facendo la parte estetica di questo minigioco mi sto divertendo in ogni caso spostiamoci da qui perché questo è un lavoro che voglio fare off camera con calma non è di questo che parleremo in questo episodio volevo giusto informarvi che insomma sto lavorando anche in quel punto magari ecco andatevi a vedere il video di su rive per capire meglio come funziona questo minigioco che in questo momento si è rotto probabilmente che cosa voglio fare signori voglio continuare quella zona che stavamo già facendo nello scorso episodio ci tenevo ci tenevo molto e quindi penso che inizierò a fare qualcosina off camera ovviamente ecco probabilmente farò una casetta proprio qui perché dobbiamo fare la strada e dobbiamo avvicinarci fino a questo punto finalmente bene bene molto bene signori è passato un sacco di tempo e infatti ho fatto un bordello di cose tra una clip e l'altra come potete vedere questa zona sta iniziando a cambiare in una maniera incredibile la casa che avevo detto di fare qui l'ho praticamente fatta ovviamente gli interni non sono fatti però mi piace molto perché sono queste due casette incastrate che funzionano molto bene e da un po' di tempo che sto iniziando a fare le case incastrate tra di loro e devo dire che funziona veramente un sacco bene come vedete qui ho iniziato ad usare questo blocchetto per variare un po' però non mi convince tantissimo come parete in ogni caso penso che al massimo sostituirò questo blocchetto con pietris con non so magari anche quest'altro vedete qui c'è una sorta di muretto perché qua come vedete ci si abbassa di livello no e quindi per fare l'entrata di questa casa ho dovuto fare una sorta di muretto in questo punto dove ti ci puoi tranquillamente affacciare e dove puoi anche entrare nella casa che è completamente vuota ah lì potrei approfittarne per mettere questi blocchetti esatto perfetto e quindi niente bisogna fare sicuramente gli interni però come potete vedere qui c'è un grosso cambiamento in questo punto vedevo che c'era abbastanza spazio e mi sono detto ma perché non ci piazziamo una casetta ovviamente non è finita perché è l'ultima cosa che ho inserito in questo punto cioè l'ultima cosa che ho fatto infatti ho costruito quest'altra casetta che è pure molto bellina ha un'entrata diversa infatti diciamo che questa dovrebbe essere l'entrata per un negozio avevo pensato di farci che ne so un negozio di ferramenta qualcosa del genere anche perché il pavimento come vedete è di pietra tutte queste cose richiamano un pochino anche il colore non lo so grigio in ogni caso ho fatto questo negozietto qua giù questa bottega e l'entrata per la casa sta quassù che è molto molto suggestiva mi piace un sacco questo fatto che devi salire le scale per salire in casa appunto e la casa è graziosa piccolina tranquilla ovviamente sono solo messo a fare diciamo le pareti e il pavimento però diciamo che l'interno ancora lo devo fare sì sono curioso di vedere come viene tra l'altro mi piace molto la finestrella che c'è qui e mi piace anche quest'altra insomma sono finestrelle che sbucano da altre pareti dalle pareti laterali delle case vedete infatti qui c'è la parete ecco che affaccia da quest'altro lato tutta roba incastrata come vedete anche il tetto di questa casa si incastra addirittura con il tetto di quest'altra bella 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 cosa l'unico problema è questo punto qui non sapevo veramente come coprirlo non sapevo cosa farci perché effettivamente qui è aperto il tutto se dovessi chiudere dovrei comunque eliminare non lo so parte dei tetti dovrei veramente fare un muro che chiude definitivamente il tutto però ora come ora così non è bruttissimo certo quando arrivi qui vedi un pochino il cielo e insomma non è il massimo poi ho messo anche un alberello qui di questo colore non è male assolutamente richiama anche un po il colore del pozzo che c'è qui ricordo che questo non l'ho fatto io ma l'ha fatto mino quindi diciamo che per insomma richiamare un po questi colori vedete come la trave che c'è qui e anche i colori vedete di questi blocchi che ci sono della casa di mino perché questa è sempre la struttura che ha fatto lui non l'ho fatta io ho messo quest'albero qui che funziona abbastanza bene qui non so sinceramente se allungare allargare se riuscire insomma a rendere questa casa effettivamente un pochino più grande perché da da dentro vedete abbastanza stretta vedrò tra una clip e l'altra e poi ho messo questi lampioni che fanno luce giustamente di sera perché ci sono questi punti abbastanza larghetti tra di loro dove non posso mettere sempre secchi di legno certo inserirò qualcuno sicuramente però volevo mettere appunto queste lanterne qui che funzionano sicuramente molto bene non danno fastidio non sono enormi quindi a noi non dispiace togliamo un attimo queste torce perché voglio che sia tutto illuminato in modo naturale poi stavo pensando di metterci qui un'altra strada infatti come vedete quest'altra l'ho portata fino a questo punto e finalmente signori ci stiamo avvicinando fin qui finalmente piano piano ce la stiamo facendo niente dicevo volevo mettere un'altra stradina qui però di queste in questo stile diciamo in questo pattern in modo che ci colleghiamo anche alle altre case che si trovano di qui perfetto e niente signori io penso che continuo a fare qualche altra cosa off camera in modo che vediamo il risultato tra virgolette finale com'è molto bene stavo ammirando cosa ho fatto tra una clip e l'altra e si è fatta notte benissimo comunque signori mi piace molto come sta avvenendo sembro scontato sai perché il mio episodio allora non posso parlare male delle mie cose però sta venendo molto molto bene vengo a dormire di qui perché di lì ci sono cose che non mi permettono di dormire adesso vi faccio vedere perché si ho frizzato un po' di gente c'è oddio un po' di gente questo 2 mob se non erro comunque ho fatto questa casetta molto bella mi piace come è venuta perché ha le scale praticamente per salire al piano di sopra dato che comunque lo spazio non c'è per fare delle scale interne cioè si poteva fare veniva però molto ristretto lo spazio qui e cosa oh mio dio creeper scheletro oh mio dio ci vorrei entrare perché vorrei farvi vedere il camino però vabbè ho fatto un camino sì ho fatto il camino con questi blocchi qui non fate caso a questo zombie che si chiama ciccio l'ho bloccato io tranquilli non mi attacca ho utilizzato questi blocchi qui ho anche iniziato ad usare quest'altra roba giusto per mischiare un po' non so se ci sta tanto bene però insomma poi ho fatto anche la strada in questo punto la strada che richiama un pochino la strada che sta lì sotto con path block qualche blocco in più come vedete ho usato anche il blocco di funghi che come blocchetto estetico in mezzo a tutto questo casino forse ci potrebbe stare ma quello che ci sta di più sicuramente è la concrete powder marrone questa ci sta veramente un sacco peccato che non si possano mettere le foglie sopra poi vabbè ho usato anche la terracotta come potete ben vedere perché si possono piazzare questi blocchi su non so se lo sapevate però insomma ecco quando andate per esempio alla mesa potete notare che ci sono questi blocchettini queste foglie secche che le potete trovare anche sopra questo blocco quindi si si possono piazzare anche sopra questi blocchi comunque tutto sommato signori è veramente bello come è venuto tutto questo robetto vorrei poter entrare per farvi vedere questa cosa perché in pratica questo scheletro qui è uno scheletro che ho bloccato io perché l'ho bloccato perché guardate che figo da qui è affacciato alla finestra non ha senso lo so perché è uno scheletro forse lo toglierò però volevo farvi vedere questa cosa che sta affacciato e guarda dalla finestra molto carino ho messo la targhetta silent perché non so se l'ho mai detto ma se mettete il nome silent a un mob non fa più casino cioè nel senso non si sente più il suo verso infatti se ci fate caso non si sente nulla questo è il camino non ho messo le solite ringhiere che faccio sempre ma ho messo slab e scale e devo dire che funziona molto bene funziona abbastanza bene purtroppo non ci sono i wall perché non siamo nella 1.14 altrimenti avrei usato quelli e poi qui in questo punto come potete ben notare c'è dello spazio effettivamente ci sono delle scale che sono fuori perché sì queste sono le scale che ci portano al piano di sopra ho ricavato dello spazietto non so che cosa ci farò qui dentro però mi piace il fatto che ci sia altro spazio che sicuramente sfrutterò magari per farci una cucina un qualcosa in modo che avremo lo spazio per farci tavoli e sedie di qui sopra vi faccio vedere è molto semplice poi la strada l'ho portata più avanti oggi si è da mettere finalmente il primo mercatino ebbene sì questo è il mercato che si ispira un po al mercato che ha fatto endernico perché l'abbiamo fatto insieme abbiamo scelto questo design è diverso è un pochino diverso rispetto al suo perché mi sono reso conto che invece di usare il quarzo come intervallo si possono usare effettivamente questi blocchi di legno di birch che funzionano funzionano altrettanto bene poi stavo facendo altre casette qui come potete ben vedere stavo anche usando un altro tipo di blocco intendo come legno grezzo ovvero quello di spruce io di solito uso sempre o quello di oak classico o quello di dark oak però in questo caso volevo provare questo blocchetto perché se ci fate caso queste scale hanno praticamente lo stesso colore del legno grezzo di spruce queste sono le scale di dark oak lavorato ovviamente funzionano un sacco bene con questo blocco cioè hanno lo stesso colore si si mescola molto bene in mezzo a tutto il casino peccato per questi queste trapdoor che devo essere sincero non mi piacciono non mi piacciono per niente sembrano semplicemente delle tavole di cioccolato quindi non mi ispirano assolutamente per niente però vabbè le usate giusto per cambiare un pochino come potete vedere stavo facendo una casetta qui è un'altra casetta anche di qui si svilupperà un pochino più in alto e poi se ci avete fatto caso ho messo degli alberelli anche in alto giusto per mettere un po' di natura anche qui intorno questi punti vedete erano abbastanza piatti non sapevo sinceramente cosa farne dato che comunque c'era dello spazio per piazzare qualcosa e niente ci ho messo degli alberelli funzionano un sacco bene non so se far calare delle liane forse lo farò però ci devo stare molto attento perché se cadono poi fino a terra è un pochino fastidioso quindi penso che farò cadere delle liane e poi le fermerò con le stringhe che sicuramente ci potranno aiutare in ogni caso signori io mi vorrei portare un altro pochino avanti a poi non vi ho fatto vedere un'altra cosa guardate qui non è la mia skin definitiva anzi io penso che le skin che faccio le uso sempre un po' tutte l'unica cosa che non cambierei mai è la mia faccia perché effettivamente è quella cioè non devo cambiarla ho la barba porto la barba anche nella realtà quindi non vedo il motivo per il quale cambiare effettivamente anche la faccia della skin però come potete ben vedere ho una specie di pigiama non so se si nota però sì ho una specie di pigiama perché è da un po' di tempo tra l'altro notate anche il cappellino quello per andare a dormire proprio che bis gli altri mi chiamano badman ovvero così letto men una cosa del genere mi chiamano così perché sono quello che appena si fa notte subito va a dormire e perché badman come batman come un supereroe perché salvo comunque le loro vite dallo spawn di zombie creeper sono il salvatore della red craft con il pigiama comunque signori ci vediamo tra poco perché voglio continuare un po' questa roba e intanto vado a dormire nel letto del buon mino in mezzo ai funghi vi starete chiedendo il buon menu in questo episodio lo farà un interno ebbene sì signori l'ho fatto è passato un sacco di tempo da una clip per l'altra e che cosa ho fatto messo delle leane come potete vedere in questo punto ho fatto altre strutture come potete vedere ci sono anche un sacco di modifiche ad esempio se vedete i mercatini li ho cambiati perché come potete vedere sfrutta le trapdoor direte voi cosa c'entrano c'entrano sul fatto che si va a creare una specie di scala in questo modo purtroppo non posso usare le trapdoor ad esempio quelle russe fatte con l'acacia perché sono delle specie di gabbie però russe infatti sono molto carine però sono russe non saprei come usarle e parlando di trapdoor queste trapdoor sono fatte in un modo particolare se devo essere sincero non mi piace tantissimo il fatto che hanno il gancio ecco anche le trapdoor di acacia se non avessero il gancio qui sarebbe tutto molto più bello esteticamente se ci pensate perché se io volessi fare delle lampade in questo modo non le posso fare perché si vedrebbero le maniglie e farebbero schifo però però stavo pensando guardate che cosa succede se mettete del fuoco dietro le trapdoor si vede questo effetto fantastico veramente molto bello l'ho sfruttato l'ho sfruttato per l'interno e tra poco ci arriviamo tra poco ci arriviamo perché volevo farvi vedere anche questi panel le bandiere come si chiamano vabbè insomma avete capito con delle texture particolari sono semplicissimi da fare questi cosi come vedete probabilmente ci sono anche delle modifiche per quanto riguarda le strutture infatti non so se già nella scorsa clip avevo fatto la modifica di non mettere per esempio questi log di legno anche al centro qui non lo so mi piaceva rendere questa parte un pochino più pietrosa tra virgolette e quindi ho fatto in questo modo ho messo anche un balcone e poi per entrare in questa casa purtroppo non ho fatto l'interno quindi vedrete uno schifo dentro bisogna scendere delle scale qui molto carina come cosa mi piace potevo anche non farla però l'ho voluta fare giusto per cambiare un pochino per dare un po di non lo so movimento al tutto poi vabbè l'interno c'è veramente inguardabile ecco magari vi faccio vedere salendo di qui come si vedrebbe il tutto uscendo qui qui fuori posso muovermi veramente poco infatti volevo parlarvi proprio di questo di fare i balconi non più in questo modo ma in un altro però vabbè tra poco ve ne parlo intanto guardate che schifo cioè si vede tutto qua sotto l'interno sicuramente lo farò perché cioè li voglio fare gli interni anche qui vedete non ho fatto nulla però ho fatto l'interno di questa casa come potete vedere oltre al fatto che comunque c'è un altro mercatino anche qui è particolare è molto particolare guardate bene è fatto con i blocchi di funghi direte voi perché non lo so non ha senso però in un contesto ecco di costruzione uno non se ne accorge cioè arriva qui vede la costruzione diceva che figo però non pensa al fatto che quelli sono funghi ci sta cioè una specie di non lo so terracotta però un pochino più sporca ecco quindi che cosa ho fatto ho fatto questa casa tutta con i blocchi di fungo solamente nel piano superiore per salire al piano di sopra bisogna insomma salire queste scale tra i palazzi veramente molto fighe queste scale mi piace mi piace un sacco sto fatto che devi salire devi scontrarti anche un pochino vicino alla struttura tra l'altro chi si affaccia da qui ti vede dice sta entrando in casa il tizio che bello beh sì sono sono cose che penso quando costruisco non fateci caso per entrare devi praticamente percorrere questo coso richiama un pochino ecco l'entrata per quest'altra casa vedete però perché l'ho fatto in questo modo perché mi dà l'idea di bottega e infatti che cosa ho fatto ci ho fatto una sorta di bottega sinceramente non so che bottega sia perché non so cosa potrebbe vendere l'amichetto qui dentro però vabbè ci ho messo delle cose e come potete notare ecco riparlando del fatto del fuoco con queste trapdor ho creato una specie di camino che fa calore dall'idea di calore e questa texture mi piace un sacco sto fatto del fuoco dietro questo robetto mi piace un sacco anche perché comunque non ti dà l'idea di legno non sembra legno se ci pensate sembra una cosa fatta di terracotta una specie di forno fatto con la terracotta mi piace mi piace funziona abbastanza bene fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate poi ho messo queste specie di mensole così quali ho dovute mettere in questo modo così non eliminavo le finestre e poi qui c'è il c'è il bancone insomma dove il tizio viene qui smette in questo modo e buonasera salve che cosa le serve eccetera eccetera poi qui c'è questa cosa particolare che metti la bottiglia dentro al bruinstein e ti esce questo questa texture qui molto molto figa tra l'altro mi ha dato anche l'achievement prima se non sbaglio si local brewery e poi c'è la candela qui mi sembra che nella serie di sopravvivenza ho portato questa cosa questa specie di idea di candela poi vabbè il pavimento è fatto in questo modo saliamo al piano di sopra così vi faccio vedere l'interno ripercorriamo questa strada purtroppo si vede un pochino il fuoco però vabbè non ci interessa e si arriva qui che pensandoci ho dimenticato di mettere il letto in questo punto perché questa è una zona diciamo una cameretta come è formata questa casa dato che comunque si appoggia alla montagna mi sono detto vabbè noi possiamo tranquillamente sfruttarla quindi sfruttare all'interno della montagna tanto non si vede fuori c'è continuo all'interno di di questa appunto e quindi che cosa ho fatto penso delle scale si sarà qui al piano di sopra e c'è un altro letto in questo punto c'è una cassa ci sono delle librerie che danno sempre l'idea di cameretta vi starete chiedendo ma la luce qui da dove arriva arriva da qui perché qui ci sono delle trapdoor che essendo trasparenti fanno passare la luce mi scocciava mettere delle torce in futuro spero che passeremo alla 1.14 e spero che uscirà il prima possibile proprio per inserire le lanterne per abusarne in una maniera incredibile perché sono bellissime poi vabbè qui delle mensolette delle cose di tavolini robe così messe a caso c'è è un tavolo in questo punto dove si può mangiare tranquillamente ho dovuto farlo aperto qui in questo punto perché così il tizio se si vuole sedere qui deve giustamente avere dello spazio per poter passare e poi qui si arriva in un punto che ha un balcone ecco questo balcone come potete vedere ecco riallacciandoci al discorso di prima per quanto riguarda il balcone questo balcone come potete vedere è fatto di trapdoor già in passato ho fatto balconi di questo tipo però non lo so col tempo pensavo ma ci stanno non ci stanno perché effettivamente c'è le trapdoor sono sicuramente una soluzione per poter camminare però funzionano come balcone forse in questo modo sì perché abbiamo in questo punto le trapdoor di spruce quindi non sono trasparenti non ci fanno vedere insomma i piedi ecco vedete qui si può camminare signori ho la possibilità di poter percorrere con il mio corpo dello spazio sì potrebbe essere una soluzione una soluzione che userò probabilmente in futuro comunque signori spero che questo episodio vi sia piaciuto datemi qualche consiglio magari anche nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo episodio seguitemi su telegram seguitemi su instagram se volete attivate la campanellina di youtube perché è importante sapete che non escono sempre i miei episodi e quelle poche volte che escono escono in giorni strani e in orari strani ciao a tutti ragazzi